we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi porca di quella porca quante novità sono arrivate con questa grandissima patch 9.10 quella uscita ieri mattina che oltre alla nuova modalità fai centro nel centro adesso non mi ricordo bene il gioco di parole ha portato lo starter pack nuove skin nuovi balli e tanta tanta roba ancora ovviamente non presente in game ma che voglio farvi vedere in questo video parleremo quindi ragazzi nel video di oggi innanzitutto delle sfide della settimana numero 3 questo pomeriggio inizia la settimana numero 3 ci sarà anche molto probabilmente lo standardo segreto la stella segreta scusate quindi vi dirò nel corso della mattina il video vi farò il video dove poterla recuperare le sfide non saranno niente di esagerato solo una cosa è meglio che sappiate ma vedremo anche finalmente il nuovo starter pack cercheremo di capirci qualcosa in più e ragazzi leaks con un sacco di s perché non sapevo come racchiuderle visto che sono davvero tantissimi voglio prima però ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima raga la domandina vi devo fare la domandina ragazzi non posso non farvela i vostri commenti qua sotto ci tengo a leggerli raga è mi raccomando lasciate il commento dai l'avete l'avete già capita non potevo non chiedervi ragazzi ma te come ti sembrano le nuove skin il pack che è uscito hang time in inglese ieri 1800 vbucks la prima volta sulla storia di fortnite che un ba un pack a questo prezzo due skin epiche ognuna con quattro stili diversi e due coppie di sfide ragazzi quindi tanta roba a me personalmente mi piacciono ragazzi bellissime c'è il logo di michael jordan ci hanno gli stili personalizzabili io se voi ne avete la possibilità vi consiglio di prenderle assolutamente perché sono davvero molto particolari e sicuramente collezionabili in ricordo in un prossimo futuro di questa modalità quindi ragazzi ditemi un po come vi sembrano qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle cianci andiamo subito subito a vederle eccole qua ragazzi le sfide della settimana numero 3 ne vediamo velocemente alcune cercare dei forzieri all'uniluge oppure al picco polare picco polare ragazzi che sarà però nel video di oggi devo farvi vedere una roba devo farvi vedere l'evento l'evento raga lo sapete adesso ve lo faccio vedere scendere atterrare in alcuni posti poi dice scendere con cioè atterrare con un un'evoluzione con il drift board vi farò poi vedere bene come farla fare un'evoluzione con il quad con il quad crusher e distruggere le strutture degli avversari con un veicolo tutte queste fanno parte di una serie di una sfida sola ragazzi explosive weapon elimination quindi eliminazione con armi esplosive per quanto riguarda la penultima sfida e forse l'unica particolare dice show the flying disc toy and catch it before it lands cioè lancia un frisbee e riprendilo prima che tocca a terra quindi ragazzi tanta roba e tanto divertimento anche per le sfide della settimana numero 3 ma andiamo avanti ed eccolo qua meraviglioso ragazzi spoilerazzato ieri nei codici sorgenti il nuovo starter pack la skin si chiama wild se non ricordo male molto bella molto bella è come skin ragazzi mi piace questo starter pack lo scorso starter pack io lo shop allora io vi consiglio sempre shoppate se potete gli starter pack perché per 4 99 ci sono dentro 600 v bucks quindi ragazzi il gioco vale sempre comunque la candela anche solo per i v bucks quello della scorsa season aveva dentro il la skin per le armi che ovviamente a tema ananas impreziosiva ancora di più lo starter pack quello di questa season invece solamente skin e backpack comunque secondo me merita questa skin davvero molto bella voglio anzi approfittarne per farvi vedere qualche spezzone come vedete già della skin in game con i nuovi balli non vi faccio sentire l'audio per evitare problemi di copyright ma come vedete ragazzi questo intanto è bellissimo cioè il guitar walk questo è uno dei nuovi balli con attraversamento quindi tanta tanta roba bellissimo io direi che questo è un un onore un omaggio ad angus young degli cdc abbiamo l'emote glitter eccola qua vediamo se ce n'è un'altra c'è il billy bones ecco qua anche questo molto molto divertente e l'ultima ragazzi fermati e l'ultima ragazzi dovremmo avercela invece da qualche altra parte l'abbiamo persa la rivedremo più avanti tanto sono convinto che le avete già viste da qualche altra parte quindi ragazzi quattro nuovi balli in arrivo prestissimo in questi giorni ma andiamo avanti ed ecco un'altra grandissima novità ragazzi nei file di gioco è stata trovata la nuova arma in arrivo si tratta guarda caso di una nuova mitraglietta non sono stati contenti del nuovo fucile d'assalto con mirino che nonostante si chiami fucile d'assalto utilizza colpi piccoli questa ragazzi è una mitraglietta che io ho già visto nei videogiochi di guerra anni fa tipo battlefield non è proprio una g18 però è un p18 qualcosa del genere è una mitraglietta molto compatta che ha la caratteristica di sparare velocissima parliamo ragazzi anche più veloce del p90 un caricatore dovrebbe essere da 35 colpi qualcosa del genere ovviamente si utilizza solo ed esclusivamente da distanza ravvicinata diciamo che in questa season chiamata oramai la season degli spammoni si potrebbe qualora entrasse in vigore questa arma utilizzarla al posto del pump ragazzi non sappiamo ancora altro questa è solo un'immagine molto probabilmente ci vorrà ancora un po di pazienza prima di vederla seriamente in game ma siamo arrivati finalmente ai co che cavolo mi fai vedere i codici sorge sì questi sono i codici ragazzi queste sono in realtà delle stringhe di codice relative al primo forse unico evento della season 9 si parla ovviamente di picco polare c'è addirittura una riga questa qua ragazzi che se andate a guardare in fondo dice ice chunk falling briciole di ghiaccio che cadono circa tradotto in italiano e come vedete ragazzi in questa immagine siamo sempre nei codici sorgenti è stata inserita con la patch 9.10 è stato inserito un nuovo render di picco polare come vedete la parte alta è dove in realtà c'è il castello guardate in basso in basso in basso c'è una nuova entrata quella roba lì nera non è altro che probabilmente un nuovo ingresso o comunque un punto di rottura di questo enorme incredibile blocco di ghiaccio voglio spingermi oltre ragazzi e farvi vedere direttamente in game e se riesco anche a farvi ascoltare l'effetto il tremolio che potreste provare in game qualora foste a picco polare sentite un po dovrebbe partire hai visto i pezzi di ghiacci che scendono rivediamo questo pezzettino e come vedete ragazzi dove c'è il il mirino quella è la zona nera che vi ho fatto vedere nell'immagine precedente quindi il picco ragazzi sta per sbriciolarsi noi non sappiamo in realtà se con lo sbriciolamento di picco polare ritornerà anche boschetto bisunto ce l'auguriamo ovviamente ma per il momento possiamo solamente aspettare che nuove cose vengano fuori dai file di gioco e ovviamente rimanere sempre aggiornati qua nel canale per saperle il prima possibile io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 in live ciao e non parte mai l'altro